Primo torneo di Just Dance 2015 qui al Centro Piave e io voglio subito presentarvi i vincitori. Terza posizione troviamo Luca. Allora Luca tu sei una new entry ma non tanto new perché spiegami un po' tu sei amico di quelli che hanno sempre vinto, raccontami. Simone, praticamente un giorno, tanti tanti anni fa gli ho detto ma proviamo a giocare a Just Dance. E lui praticamente l'ha preso e abbiamo iniziato, poi lui ha iniziato a fare i tornei, io me ne sono andato un po' a Londra. Adesso che sono tornato sono venuto a movimentare un po' le cose. Quindi sei tornato, sei subito arrivato sul podio ma diciamo che la prossima volta devi batterlo questo Simone perché è solo grazie a te. Ma speriamo sì dai adesso mi impegno un po' di più e magari riesco a batterlo. Non magari perché ti abbiamo visto ballare e andiamo a conoscere questo suo amico secondo classificato. Si conferma ancora secondo, non ci è riuscito questa volta, lui è il nostro? Simone. Allora Simone il tuo amico ci ha raccontato un po', l'hai battuto, te lo aspettavi? Sinceramente no perché era molto forte, era un po' che non giocavo con lui quindi non sapevo com'era il suo livello però dai, sono stato contento del risultato. Anche se, anche stavolta c'è stata un'altra ragazza. Però stavolta era nuova quindi non puoi dire niente. Non mi posso lamentare, non era né Greta né Silvia quindi dai, è stata brava. Se non c'era lei però vincevi tu. Sì, dai, diciamo. Dai dai, vieni vieni che vinciamo il prossimo torneo, andiamo a conoscere questa nuova prima classificata. Vince il nostro torneo di Just Dance 2015 e con noi... Sara. Allora Sara, raccontami un po', tu sei una new entry, non ti abbiamo mai visto ma subito ti hanno temuto. Raccontami un po' la tua storia, come giochi a Just Dance. Allora, ho iniziato a giocare circa quattro anni fa e così per caso perché gioco è stato regalato a mio fratello ma insomma è diventato il mio hobby e così pian piano sì mi sono allenata tanto perché mi è piaciuto. Allora si vede che ti sei allenata tanto perché sei veramente forte ma la mia domanda, ti aspettavi di vincere questo torneo? Beh, ci speri ovviamente però essendo appunto la prima volta non sapevo che livello potessi trovare anche se seguendo su Facebook il videogames party sapevo che... Erano forti? Eh, abbastanza sì, quindi diciamo che ci ho provato poi ho avuto anche magari fortuna qualche volta. O magari sei veramente forte. Sì, sì, dai, più o meno, beh, anche i finalisti erano veramente tosti e magari l'ha stata la canzone sì che mi ha portato. È stata una bella finale, quindi noi ti ringraziamo, sicuramente ci vediamo al prossimo torneo e venite a battere al prossimo torneo videogames party. Grazie a tutti!